Wabalabadabdab e bentornati su No Mamamazzo. Continuiamo la playlist di Dilan Dog e continuiamo a parlare di Dilan Dog Old Boy che è arrivato questo bimestre al numero 6, come sempre contenente due storie della durata di 94 pagine quindi è come se fosse appunto la serie regolare, appunto, come lunghezza. Queste due storie si intitolano Gli Esorcisti e Il Mondo Capovolto. Negli Esorcisti ci sono i disegni di Corrado Roy che danno sempre un valore aggiunto al tutto mentre per quanto riguarda la seconda storia i disegni sono di Nicola Mari. Le due storie invece, le due sceneggiature, sono di Marzano per gli Esorcisti e di Gregorio per Il Mondo Capovolto. Partiamo con le note dolenti, ovvero si sa sono aumentati i prezzi di copertina diversi youtuber settorializzati nei fumetti, nella Bonelli, ne hanno parlato quindi non sto a parlarne io in modo specifico l'avevo accennato anch'io nella mia storia su Flash e Zagor si sa che hanno aumentato la grammatura della copertina e devo dire che si sente ed è bella al tatto all'interno c'è il colore, per carità valore aggiunto come sempre una cosa che invece ne avevamo già parlato nell'ultimo video sull'Old Boy, quello di San Valentino che in questa copertina, che come sempre non c'entra nulla con le due storie all'interno ma mi ha fatto venire voglia di prendere il numero perché c'è questo bar con i vari mostri, questa tavola calda che richiama anche un quadro con i mostri all'interno mi ha attirato però c'è sempre questo trafiletto che non capisco perché non l'abbiano semplicemente tolto è orribile, non sapevano cosa scrivere e ci hanno messo delle emoticon e non ha assolutamente senso, avrebbe avuto molto più senso se all'interno avessi trovato degli adesivi con questi smile ma così davvero non ha assolutamente senso se voi ci fate caso, in ogni Old Boy c'è un trafiletto con una frase perché probabilmente l'Old Boy è da boomer e quindi non basta nella grafica avere già due storie inedite il titolo, il sottotitolo della collana i titoli delle singole storie no, ci deve essere anche una scritta qua fateci caso in ogni numero anche nel prossimo numero qua ci sarà questa scritta quindi oltre al titolo, al sottotitolo, due storie inedite, 80 anni bonelli i titoli delle due storie c'è anche questo trafiletto qui non sapevano che minchia scrivere e hanno messo delle emoticon ho capito che il target sono persone che leggevano Dylan Dogg negli anni 80 e che adesso con le grafiche di merda come quelle dei gattini ci vanno a nozze però si presume che chi invece fa le copertine abbia studiato grafica ma vabbè chiudiamo l'argomento copertina per carità spero che nella prossima cioè davvero qualcuno che si intende di editoria mi spiega cioè sono obbligati per contratto ad avere questo trafiletto possono toglierlo fatemelo sapere qua sotto nei commenti già che ci siete iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto così raggiungiamo la cifra tonda che porta bene boh non lo so non è vero allora concentriamoci sulle due storie gli esorcisti peccato non c'è Samuel Stern mi dispiace si chiama Dylan Dog per fare un esorcismo e non Samuel Stern ma d'altronde il personaggio di Liam che già abbiamo visto nell'Old Boy numero 3 conosce Dylan Dog è un informatore una talpa un ciarlatano uno che parla che dice un sacco di di favole di bugie per farsi bello coinvolge anche questa volta Dylan Dog niente meno che in una storia di mafia una storia di mafia e di esorcismi come dicevo prima in questo numero i disegni sono di Corrado Roy Corrado Roy è sempre un valore aggiunto in Dylan Dog da questo tocco di esoterico quando disegna in questa storia il suo tratto non è nebbioso come nella saga 666 mi ha ricordato di più un tratto un po' più pulito quello che abbiamo visto per esempio nel numero Morbo M quindi è un po' più un pochino più netto perché comunque la storia si presta di più a questo e il tema invece dell'esorcismo con lo schema di capovolgere gli schemi narrativi tipico di Tiziano Sclavi è un'idea tanto semplice quanto nella mia ignoranza mai utilizzata è stato davvero bello vedere Dylan Dog costretto ovviamente a liberare una persona una persona malvagia da una da una possessione non demoniaca ma angelica quindi tutto il rovescio di tutto ed è stato davvero molto carino vederlo agire in questo modo vedere la storia a rovescio la tensione di fondo dovuta alla presenza di famiglie mafiosi in questa Londra che si contendono il territorio dà a tutta la storia un non so che di più vero di più verosimile in un contesto dove c'è niente meno che un esorcismo numero che secondo me sarebbe stato benissimo anche nella serie regolare anche perché non si sbilancia tanto su sui ruoli quindi sarebbe stato molto più facile da inserire nella serie regolare che non altre storie che abbiamo visto se non fosse per la presenza di Liam invece informatore che abbiamo visto nell'old boy numero 3 e che quindi è giusto così che sia stato mantenuto nell'old boy ma a livello di qualità sarebbe potuta tranquillamente finire nella serie regolare parlando appunto di storie rovesciate nella seconda storia c'è tutto il mondo capovolto è bello vedere una realtà totalmente rovesciata dove Dylan è inizialmente spettatore quanto noi ma col passare del tempo inizia a subire anche gli effetti di essere in questo mondo capovolto il concetto che Dylan non riesce a capire per noi lettori invece è spoilerato fin dal titolo e quindi viene un pochino tirato per le lunghe fortunatamente quando sta per iniziare ad annoiare questa ridondanza del concetto del mondo capovolto si arriva finalmente alla parte finale dove c'è il classico finale agrodolce che mi ha ricordato molto i finali di Tiziano Sclavi e chiaramente fa una citazione a Dylan Dog attraverso lo specchio quindi storia che si riscatta nel finale accoppiata di storie che va che si sposano benissimo perché c'è in entrambi il concetto di un capovolgimento nella prima il capovolgimento dello stilema della storia dell'esorcismo che come dice Dylan Dog nei film sull'esorcismo sono tutti uguali e qua vediamo invece una storia capovolta e nella seconda storia c'è capovolto tutto il mondo quindi mi è piaciuto anche questo connubio questo filo conduttore tra le due storie numero che vi consiglio di comprare più di altri francamente nonostante appunto la copertina non sia delle migliori non mi riferisco ai disegni ma mi riferisco proprio all'impostazione grafica continuo sempre lo dico tutte le volte credo che anche questa volta comprerò l'Old Boy numero 7 perché mi ispirano alcune cose mi ispira anche questa tavola dove sembra che il nostro pesce d'aprile in cui Dylan e Samuel Stern hanno collaborato sembra quasi diventare realtà ovviamente so che non sarà così ma voglio andare a curiosare cosa ci sarà non so se il numero 7 sarà l'ultimo oppure no in ogni caso continueremo con la rubrica retro Dylan in cui parleremo delle vecchie storie vi ricordo che dato che stiamo parlando di Dylan Dog che questo mercoledì 21 aprile alle 21 sul mio canale YouTube ci sarà una live in cui ci sfideremo con altri youtuber che parlano di Dylan Dog ma non su Dylan Dog ma sui fumetti in generale quindi io Luca DJ il canale di Kuro l'altro fumetto e Pelati e fumetti faremo ancora la live di Trivial in cui faremo domande a Rafika e tutti risponderanno se sapranno la risposta quindi nel caso seguiteci in live e tifate per chi volete non necessariamente per me assolutamente e se volete rispondete anche voi alle domande io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui vi auguro una buona domenica e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video